È durata poche ore la fuga di una ragazza di 12 anni di Fano, scomparsa nel primo pomeriggio della giornata di ieri. La madre ha chiamato i carabinieri intorno alle ore 21 e nel luogo di residenza è stata subito inviata una pattuglia del nucleo radiomobile di Fano. Dalle prime indagini si è scoperto che tra madre e figlia il rapporto era conflittuale e che la giovane più volte ha minacciato di allontanarsi da casa. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Fano, le ricerche sono partite dai posti in cui la minorenne è stata avvistata le ultime volte e in seguito sono proseguite con il controllo dei luoghi abitualmente frequentati dai giovani. Alle 5 del mattino l'adolescente è stata ritrovata a casa di una compagna di scuola. Era stata accolta perché i due giovani avevano fatto credere che l'ospitalità della minore fosse stata concordata con la madre. La mamma dell'amica incredula ha consegnato la giovane fuggitiva ai carabinieri e successivamente alla madre emozionata. Grazie per la visione!